Beh, ciao, eh! Ho qui il mio amico, che è un birichino, che lo trovo povero, solo soletto, abbandonato, però, sai, aveva un nome, Buc, Buc, il montone, ma me lo porto a casa, me lo porto a casa, anche perché mi farà fare senz'altro delle belle figure, mando avanti lui. Invece, un bel truffaldino, una truffa si è rivelato, quindi, care femmine, stato in orecchia perché quelli che dicono che sono dei montoni. Poi, alla fine, sono delle truffe. Occhio! Occhio!